Io me... perché sono qui? Perché c'è la nostra prima classifica, prima di otto che avremo in due giorni, quattro questa sera e noi partiamo dai ragazzi prodigian, fan prodigian, andiamo a vedere chi c'è in quinta posizione in questa classifica speciale Eccola qui Si fa particolarmente piacere inserire in questa classifica una nostra conoscenza, no Enrico? E' stata qui con noi E' stata qui con noi, Emanuela Cortesi Facciamo un applauso a Anuela Abbiamo avuto un problemino ma lo ha risolto Siamo subito, non è quinta perché è stata con noi, non è in questa classifica perché è stata con noi No, no E' in classifica perché nel 1973 aveva appena 15 anni e vince Castro Caro, proprio qui sopra ai nostri studi L'anno dopo ha solo i 16 anni al Festival di Sanremo dove giunge in finale e chiude quinta con il mio volo bianco Per chi l'avesse persa di vista, beh, lei ha fatto una carriera da corista straordinaria Ha accompagnato Laura Pausini solo nel tour mondiale Poi ancora ha lavorato con Dalla, con De Gregori, con Ramazzotti Beh insomma vi abbiamo motivato, anzi il quinto posto forse le sta stretto Scendiamo in quarta posizione Stavo cercando di capire la contrarietà di Raffaele La contrarietà? No, ecco Sì, stava andando via No, perché Luis Miguel, questo era 1985, al Festival di Sanremo, è il più giovane di tutti Della storia dei 68 anni del Festival di Sanremo 14 anni al Festival e arriva addirittura secondo con questa canzone, ragazzi di oggi, scritta da Cotugno Che evidentemente non gli bastava arrivare secondo come cantante, interprete Ma voleva arrivare secondo evidentemente anche come autore Questo ha venduto tantissimo la ricca Ecco, anche in questo caso qualcuno forse ha perso di vista Luis Miguel Beh, lui resta famoso, soprattutto in Sud America, per tour lunghissimi In Messico dal 2005 al 2007 Quindi in un biennio Ha fatto 1,4 milioni di spettatori E incassato in questo tour di due anni 95 milioni di euro Quindi questo per far capire che la carriera è andata oltre il Festival di Sanremo dell'85 Andiamo in terza posizione Era il 1970 Quando Ron si presenta a soli 17 anni E' Ron E' Ron E' Ron E' Ron Al Festival di Sanremo Una carriera straordinaria quella di Ron Al Festival, questa canzone Pa, diglielo, ma la canta con Nada Va otto volte al Festival di Sanremo Verrà ricordato soprattutto naturalmente per il 1996 Ancora in coppia, anche questa volta Con Tosca, vince il Festival di Sanremo Con Vorrei incontrarti tra cent'anni Canzone molto molto belle Che sicuramente non dimenticata Scendiamo in seconda posizione Allora voi, voi non, forse qualcuno di voi non lo sa Molti si, trasmettiamo da Forlì È la nostra vicina di casa Da Solarolo Laura Pausini 1993 1993, 18 anni e mezzo E' la grandissima protagonista di un'edizione molto particolare Perché questa è la solitudine di Laura Pausini Farà parlare di più Ed è capitato molto raramente Questa canzone che vince i giovani Fa parlare assolutamente di più Di quanto invece si è parlato Della prima posizione nei big Che è quella di Enrico Ruggeri con Mistero Dietro di lui un meraviglioso Cristiano De Andrè con Dietro la porta Se andiamo in prima Molti si aspettavano a Raposini in seconda Invece no È prima Invece è seconda Perché prima Non potevamo che mettere Non ci sia dubbio Insomma Giglio Cinquetti 1964 È la prima minorenne Al festa di Sanremo Ma sconvolse il festival Non tanto perché è stata la prima minorenne Non tanto perché a quella festa di Sanremo Ha partecipato e ha anche vinto Ma soprattutto Soprattutto perché Per il contenuto di questo brano Che insomma parla di Una ragazza di 17 anni Che ricordiamo Nel 1964 Non ha l'età Per amarti E per uscire Sola con te Quindi fece Una canzone ovviamente Chiacchieratissima Questa è la prima classifica Ci rivediamo dopo Facciamo un applauso E noi ci vediamo tra 5 minuti In pubblicità Anche meno Anche meno Scatelati Dopo tanta bellezza Gli orrori Sanremesi Questa è la classifica Preannuncio Che ci sono anche dei nomi Importanti Quella è giù Purtroppo È abbastanza È abbastanza in basso Preannuncio Che ci sono anche Insomma Personaggi Molto molto noti E Noi Noi li vediamo Partendo dal Quinto posto Occupato da Allora Se c'è Se esiste un detto Ed esiste Che la prima impressione È quella che conta Beh questo non vale Per Giovanotti Che inizia La sua straordinaria carriera Con questo terribile Vasco Insomma La verità aveva già iniziato Con Give me five Però Diciamo che È stato sulla stessa Falsariglia Il problema è che arriva Incomprensibilmente Quinta E si mette alle spalle Dei grandissimi Della musica italiana Dei mostri sacri Come Paoli Come Lavanoni Come Peppino Di Capri E l'aggravante Che il testo L'ha scritto lui Non qualcuno a luglio Claudio Quarto posto Claudio ti fermo Scusami Quando la Ferma ferma Un attimo Un attimo Quando la prossima settimana The Colors Arriveranno davanti A Nella Manoni Potremmo dire più o meno La stessa cosa Esatto Sarà contento Ruggero Ma insomma Tra 15 anni Diremo Diremo la stessa cosa Comunque qui lo sapete Che siamo democratici C'è qui Decide uno Io Esatto Quarta posizione Siamo democratici Siamo democratici Ma ne è rinco C'è la domanda Sì Senti Allora L'esordio assoluto Da solista Di Carlo Marrale Molti l'avranno riconosciuto Dei Mattia Bazzard È del 1994 E il flop È altrettanto assoluto Nel senso che Questa canzone Si chiamava L'ascensore Una canzone Senza pretese Che ha questo Indimenticabile Stop Dubain Che è proprio Il motivetto Che si ricorda Che impreziosisce La canzone Riesce ad arrivare Addirittura Terzo ultimo Che è un trionfo Quindi terzo A partire dall'ultimo Perché peggio di lui Fanno Seconda giuria Franco Califano Con Napoli E anche La squadra Italia Con una vecchia Canzone italiana Vabbè Che ci stava Che ci stavano Che ci stavano Terza posizione Scendiamo Questi li conoscete meno Alcuni Allora Era il 2003 Questa era Maria Pia Il Super Zoo Con tre fragole E se adesso Vi chiedessi Riproporre Secondo me Il motivetto Lo ricordereste Per ricordarlo Lo ricordereste E lo canteremmo Anche meglio di lei Sì Anche secondo me Partecipa Alla sezione giovani È una sezione giovani Piuttosto scadente Quell'anno Anche se C'è un guizzo Cioè Quello di Dolce Nera Che vince Con Siamo tutti là fuori Che insomma È una canzone Insomma Che vale Diciamo E che è anche L'unica cantante Di cui saremo giovani Che si affermerà Successivamente In carriera Una canzone Che ha un alto rischio Di rimanerti Appunto In loop In testa E renderti insonne Per dei mesi Praticamente Andiamo al secondo posto Eccola qui È lo stesso anno È lo stesso anno Di Vasco Di Giovanotti Le sorelle Alla giuria Piace un sacco La fanno ascoltare tutte Perché è bellissima Stella È lo stesso anno Mietta con canzoni Con canzoni Scritta dal maestro Nel 1993 Nel 1993 Alessandro Canino Arriva da un'ottima Affermazione a Sanremo Con brutta E ci riprova Però incappa In questa Tu 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 Questo è il titolo Della canzone Canzoncina sconsigliabile Ai diabetici Per eccesso Di ricchezza Di glucosio Con mirabili passaggi Come quello Che abbiamo ascoltato Tu 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 Cuore occupato Che a quest'ora Resterò nel tuo pigiama Bottone innamorato Una frase che Schifata anche Dei baci perugino Una cosa Indecente Però attenzione Meglio di no Però attenzione Aggiungo una chicca Vi consiglio Caldamente Di andare su youtube E guardarvi il video Di questo bra di tu 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 Perché c'è anche un video Non ci credete Ma c'è Che è girato A metà Tra un autoscontro Di Luna Park Deserto Che secondo me Nella barbagia al massimo Puoi trovare un Luna Park Così deserto E una sorta di zattera Che naviga In un insano e anonimo Affluente del pollo Che bellezza Che tristezza Guardatevelo A dopo Che tristezza Bravo Claudio Mi rimetto a posto La cravatta di Trump E passo la parola Alessia Prosegue la gara Per la prima volta Sul nostro palco Rachele Romani Che ci canta Controvento di Arisa Claudio A te Ulteriori informazioni Insomma Raccontaci qualcosa Su questo controvento L'anno è il 2014 Conducono Fazio E la Litizzetto A vincere È proprio Arise Con questo Con questo brano L'edizione è tutt'altro Che indimenticabile Direi il vero Lo testimonia anche Lo Cher Che sarà il terzo Più basso di sempre Insomma Quindi saremo davvero Poco seguito A seguito Della vittoria Di Sanremo Red Ronni Dichiarerà Che la canzone Controvento Era secondo lui Un plagio Di entra nel cuore Di Micol Bersanti Che solo lui Conosceva Secondo me Il popolare conduttore Sosteneva che L'intro del pezzo Era praticamente Identico Appunto a quello Della cantante Lucana Il 27 febbraio Questa canzone Di quell'anno Ovviamente Arriverà in prima Posizione In classifica Rimanendo in testa Per due settimane Ascoltiamocela Non è Arisa Ma era Kelly Romani Con controvento Un applauso Questa che è quella Dei grandi autori Che hanno fatto La storia Di Sanremo No? Sì Qui Poi ci dovrà dire Quando fece la prima Comunione Claudio Baglioni Eh certo Sì Domani Domani Teniamola per domani Dopo la prima canzone Domani sera 20.45 Seconda puntata State con noi Claudio vai Allora Grandi autori Prima abbiamo Sorriso Con gli orrori Quant'altro Domani Torneremo a sorridere Che ce ne sono E anche più tardi Secondo me Ma Adesso insomma Siamo seri Perché siamo di fronte Dei grandissimi autori Il motivo Per cui La musica italiana Insomma Per cui Difendiamo la musica italiana Adesso capirete perché Insomma Compriamo la musica italiana Perché abbiamo degli autori Così Come questo Il quinto posto È stato difficilissimo fare una canzone Allora questa era Una delle tantissime canzoni Scritte da Alberto Salerno Una penna straordinaria Illuminata Autore della canzone Proprio con la C maiuscola Cioè Io vagabondo dei nomadi Ha scritto solo Io vagabondo dei nomadi Ma non gli bastano Per dire canzoni straordinarie Tante sono andate al festival Alcune l'hanno vinto Questa per dire di no Di Alexia l'ha vinta L'ha vinta nel 77 Con gli Homo Sapiens Con Bella da morire E poi Con Terra promessa Di Ramazzotti Sanremo Giovani Che ha lanciato Il cantante romano Nella Insomma Nella Nella grande musica Per Zucchero Ha scritto una delle più belle Canzoni di Zucchero Donne A Sanremo Per Marcella Bella Scritto dopo la tempesta Se non la ricordate Andatevele ad ascoltare Una canzone meravigliosa Per Mango Lei verrà Che è una canzone Insomma Che anche questa Ha lanciato Pino Mango Nella grande musica italiana Scendiamo al quarto posto Abbiamo scelto questa Perché è una canzone Assolutamente singolare La canzone dei neri Per caso Con cui vinceranno Nei giovani Primi nel 1995 Questa canzone È stata scritta Da Carlo Mattone Che ne scriverà Anche un altro Come l'impressione Che la sentiremo Tra poco Che è ancora Di decrescenza Una canzone tra le più belle Della storia della musica italiana Ma anche Ma anche Tornando Anzi restando a Sanremo Visto che ancora A Sanremo Ci andò Ma che freddo fa di nada E vince il festival Come autore Carlo Mattone Anche con Il cuore è uno zingaro E arriva a seconda Con Quella Prodezza Che è il clarinetto Di Renzo Arbole Quella finezza Che è Il clarinetto di Renzo Arbole Scendiamo Podio Terza posizione Non mi pare mai Grande grande amore Già di tutto c'è Oh Tu Nardo Mi vuoi Non moltissimi Non moltissimi Si ricorderanno Questa canzone Che d'altronde È molto datata Grande grande amore Con cui Lena Biolcati Negli anni Ottanta Vince C'è il festival di Sanremo Un acuto straordinario Tra l'altro Quello finale di Lena Biolcati Maurizio Fabrizio È lui L'autore Terzo In classifica Ha scritto anche Sarà quel che sarà Storie di tutti i giorni Con cui ha vinto Sanremo A quattro mani Con Bruno Lauzi Ha scritto una delle più belle canzoni Della storia della musica italiana E del festival Che è almeno tu Nell'universo Di Mia Martini Seconda posizione Fabrizio Berlincioni Ha scritto questa canzone Di Fausto Reali Questa e tante altre A proposito di Fausto Reali Ti lascerò Assieme ad Anna Occe Con cui Leali Vince Sanremo L'ha scritta ancora Fabrizio Berlincioni Ma anche tantissime altre Come Mi Manchi Per restare in tema Della voce Meravigliosa di Leali Assieme a Cotugno Scrive la più bella canzone Che Toto presenterà Al festa di Sanremo Che è Gli Amori Cantata anche da Ray Charles E anche Ti Penso Di Massimo Ranieri Sempre lui l'autore Ora che ho bisogno di te Di Leali E di Luisa Corna Che arriverà a quarta nel 2002 E sempre la sua Di Fabrizio Berlincioni Il primo posto Per un autore Incredibile Straordinario Buona carriera Passerà Passerà Che se farai Soltanto Da 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 Passerà 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 Della musica italiana Che Giancarlo Bigazzi Scrive Questa Passerà Vincerà Il festival Anche con Non Amarmi Di Baldi Appunto E Alotta Schriverà per Baldi Anche Soli al bar Ma anche Brani Un brano meraviglioso Come quello Abbiamo ascoltato prima Gli uomini Non cambiano Perché lo fai Assieme a Marco Masini Che arriverà terzo Gli altri Siamo noi Di Umberto Tozzi Canzone meravigliosa Cosa resterà degli anni Ottanta La scrive assieme A Raff E poi Il brano Dei brani Il Sanremese Per eccellenza Che si può dare Di più Lo scrive assieme A Raff E a Tozzi Restano fuori Tanti bravissimi autori Come Marrocchi Artegiani Insomma Ne abbiamo messi cinque Ma insomma Abbiamo messo Veramente un'eccellenza Bravo Claudio La ricerca di Claudio Bolognesi Andiamo da Giovanni Capozzi Soprattutto dall'Esse e dall'O Ci raggiunge da Napoli Giovanni Capozzi Che ci canterà ancora Di Edoardo De Crescenzo Dici qualcosa di più Claudio Sono qui Sono qui L'abbiamo appena citato Tra l'altro Ancora E finiti in classifiche Grazie al tuo autore Nell'edizione dell'81 Si presenta Edoardo De Crescenzo Per la prima volta Al Festival di Sanremo Con questo brano L'edizione è condotta Da Claudio Cecchetto Verrà vinta Da una forlivese Una vicina di casa Alice Per Elisa Non arriverà Neppure Pensate Questa ancora Di De Crescenzo Neppure Neppure Il decino posto Considerate dunque Insomma fuori Fuori il caso abbiamo delle foto, stiamo parlando di look stravaganti, che non sono i look più brutti, attenzione, anche questo purtroppo vi devo dire che mi è toccato decidere a me, quindi potremo litigare forse per dire con Margherita, perché per esempio in quinta posizione, io l'ho ritenuto stravagante e non trash, ecco questo Arisa, questo look di Arisa, perché Arisa furbetta, si presenta con questo, al suo esordio, nel 2009, con questo, nella categoria giovani, con questo look così anni 30, potrà piacere o far ribrezzo, ma di certo, di certo lascia il segno, di certo lascia il segno insomma, e aiuta a ricordare una canzone che già di per sé non è facilmente dimenticabile, è sincerità insomma, quindi ve la ricordate bene, anche senza il look, però il look aggiunge, poi, 1999, wow, lo storico tanga di Anna Okshoff, allora qui, in questo 1999, altro che forfalline qui, ecco, in questo 1999, con Senza Pietà, che vincerà i feste di Sanremo, Anna Okshoff osa sul look come e più di sempre, come non aveva mai fatto, insomma, così tanto, sfoggia questo tanga che volutamente, malizioso, furbetto, sbuca dalla gonna, il problema alla fine non è stato neppure quello, il problema è stato che causa, per simiotare Anna Okshoff, tante donne che non potevano permetterselo, nei mesi dopo hanno affollato le strade e le piazze con sti tanga di fuori, andiamo in, scendiamo in terza posizione. È successo, è successo. Perché stravagante? Perché stravagante e non trash? Perché Alberto Camerini, insomma, coerentemente, stravagante anche al festival, si presenta proprio come l'arlecchino elettronico che era, anche se con una misa un po' diversa, soprattutto con una conciatura molto diversa, perché dal ciuffo passa a questo caschetto... Vorrei dirti, Claudio, che nessuno dei nostri cantanti... Ah, ecco, no, insomma, ho visto della stupore, nessuno conosceva qua sopra, forse Alberto Camerini? Lo conoscete? No, va bene. Questo caschetto improbabile alla Caterina Caselli, che è molto più brutto del vestito, in fondo, insomma, è il suo vestito, il vestito dell'arlecchino elettronico. Seconda posizione, look stravagante, chi c'è? Voglio il parere di Raffaele Montalti qui, eh? Lo sapevo, lo sapevo, eh? Qui siamo avanti, eh? Siamo avanti. Qui ragazzi siamo nel 1984, la canzone è Per una bambola, non lasciatevi traviare, insomma, dalla Parti Bravo, versione Domo, pacca di adesso, ma, insomma, allora, allora, Parti Bravo poteva permettersi più o meno quello che si poteva permettersi anche Anna Ox, quindi era proprio una delle poche, insomma, poterselo permettere, ose con questo look che verrà ricordato, certamente più della canzone che ci piazzerà decima nell'anno del trionfo di Cinserati. Diciamo che lei il tanga proprio non se lo metteva, cioè... No, lei, esatto. Le invitava proprio... Nude look. Accuratamente, non solo il tanga. Possibili qualcuno e qualcuno dei suoi nude look? Eh, certo. Allora, al primo posto Maria avrebbe potuto occuparli tutti e cinque, i posti, insomma, non ci sarebbe, non c'è classifica, saremo questo è in assoluto l'indimenticato, insomma, impossibile da dimenticare. Vestono i panni e pure le vernici anche dei Rockets, lascia una bocca spalancata, ma divertita, anche tutto il reparto geriatrico che c'è seduto lì all'Ariston. Finiscono secondi con polemiche infinite per il primo posto truffaldino, qualcuno dice di Ron e di Tosca con vorrei incontrare 300 anni, ma insomma, il look indimenticabile per eccellenza è quello di Elio e le storie tese. Claudio Bolognesi. Allora Margherita, abbiamo tre minuti per far votare alla nostra giuria degli ultimi pronostici, quindi vediamo chi c'è adesso, vediamo chi c'è adesso. Lo Stato Sociale, gruppo musicale elettropop bolognese, formato da tre DJ di Radio Città, Fujiko di Bologna, Alberto Cassola, Ludovico Guenza e Alberto Guidetti. Nel 2011 la formazione viene ampliata a quintetto con Enrico Roberto e Francesco Draicchio. Nel 2012 vincono la seconda edizione del premio Buscaglione, nel 2014 esce l'album l'Italia peggiore, nel 2017 viene...